questo è per voi mettiamo tutto quello che non mi chiede il signor solo non è sì che senza nulla ragione apparato senza nulla che la difende la mia schiena non è venuto un avviso di nessuno sono già la fatta e la casa è una nostra famiglia io ci dice che veniva a parlare come si capisce ragione sapere sbagliati da becci che cosa tutto sto casino allora è picchi un posto un pozzo è picchi un pozzo e non posso direi siciliano no no so calabrese io io vado a mano sto favore di un paesano in alto ma già l'affettare non posso fare ma la figura che non vincolino non devo pagare un'e cassa e vabbè quanto pagano che assai un'ese cinque scuola che ci sono sei messi d'anticipo ma non c'è la città niente è una cristiana orgogliosa e non venisse a trovare un dannato i servizi è mai scelto un cane a prestare a un cane a prestare sto cazzo sto cazzo ma sto cazzo si che stanno andando a casa mi non ordine a mia mano di comanda oh tu puoi stare attenta come parlo con me la capiste ma se noi una cosa ci non tocco una seconda domanda sbattela andate a manzo volato in tuo mezzo nella strada andate a bai non fai stupiacei mi hai chiesto io mi scordo è spiaciare la mia città e non ti sto vicinando così io e io io gli tu sanno dire come io sace o fa voli a salve ne dite 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 a salve ne dite